Ciao, sono Emiliano Galli dell'Agenzia Immobiliare Remax Italcase. Oggi ti propongo un locale commerciale con laboratorio sottostante in vendita in zona Montespaccata e precisamente in via Cattinara 41 barra 43. La partiglia di questo locale è che appunto sono 60 metri su questo livello più la corte esterna che abbiamo visto poco fa che è questa qui e soprattutto ha una rampa che dopo andremo a vedere che porta sotto dove c'è un laboratorio molto ampio. Il locale si sviluppa su questi due ambienti, questa è leggermente calzata, è una finestra che affaccia sul vetro. È stato utilizzato come laboratorio di tappezzeria ultimamente, però può essere utilizzato secondo varie esigenze. Origineriamente qui dove è questa porta c'era una scala che accompagnava il piano inferiore dove c'è il laboratorio, attualmente è stata tolta e verrà rimessa ovviamente dai proprietari in caso di interesse. Eccoci qui. Questo qui è il locale. E adesso vi accompagno invece alla rampa sottostante. Tagliamo mentre c'è il passo carrabile. Ecco qui tutta la rampa. Altra serranda. E l'ingresso al laboratorio. Eccolo qui. Si sviluppa in una L. C'è il bagno qui sotto. È finestrato perché sono due finestre da questa parte e seppur si vada al piano semi-interrato, nessuna delle pareti è semi-interrata perché questa lateralmente, come vedete anche dalla finestra, ha uno spazio, sono intercapettine anche su questa parete. E ovviamente ripristinando la scala si può tranquillamente ricollegare al piano superiore con quella porta lì. Per maggiori informazioni non esitate a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto. Mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi. Eccoci, come va? Grazie a tutti.